Comunicare. Può sembrare così semplice e scontato, come se nulla al mondo fosse più naturale di mettersi in relazione con l'altro. La comunicazione, infatti, può definirsi relazione. L'una non esiste senza l'altra. In realtà, lo scambio reciproco, intenzionale o involontario, di informazioni, pensieri, stati d'animo, è così ricco e complesso che non è né banale né lineare. Comunicare va al di là del semplice contenuto verbale. Non è solo ciò che si dice, ma al confrontarsi con quello che si prova, con ciò che nasce dentro ognuno di noi quando si è impegnati in qualcosa o interessati a qualcuno. Comunicare e ascoltare se stessi e gli altri, le reciproche angosce, gioie e speranze, imparando a decifrare le esperienze passate e la loro risonanza, mettendola in relazione con i vissuti dell'interlocutore, con tutto il suo bagaglio esperienziale. Ascolto, intimità, partecipazione e comprensione sono alla base di una comunicazione efficace. Eppure, c'è sempre qualcosa che complica le comunicazioni, qualcosa che si frappone tra noi e il destinatario del messaggio. Nella formazione della comunicazione interviene, in senso profondo, il nostro punto di vista sull'argomento di cui discutiamo, la nostra realtà percepita, un insieme di tensioni, aspettative, speranze riguardo quel che avviene nella comunicazione. A volte vi è la difficoltà di gestire le emozioni come la paura o la rabbia, o la vera e propria incapacità di comunicare i nostri vissuti. Abbiamo compreso quanto in questo processo siano implicati i modelli educativi appresi nell'infanzia, che moduleranno, almeno in un primo momento, le nostre comunicazioni future, talvolta negativamente. L'incontro con l'alcol e le sostanze stupefacenti è nato probabilmente da evidenti difficoltà nell'entrare in relazione con l'altro, ma anche nell'ascoltare noi stessi, i nostri bisogni e i nostri timori. Alcol e droga, da un lato, creavano un linguaggio in comune con persone con altrettante fragilità, un vero e proprio codice socialmente condiviso. Dall'altro lato, annientavano qualsiasi comunicazione con il mondo estraneo a quella dimensione, inaridendo pian piano le capacità di riconoscere le emozioni e gli stati d'animo altrui, poiché eravamo troppo accentrati sulla ricerca del piacere immediato. E' così che comunicare è via via diventato manipolare, mentire, sviare dalle nostre responsabilità, fino a perdere la fiducia negli altri e persino in noi stessi, incapaci di guardarci allo specchio senza scorgere quel lato oscuro, che inevitabilmente propagava irrequietezza, malessere e disagio. Uno degli obiettivi del percorso di cura che abbiamo intrapreso sarà quello di imparare a comunicare in modo più efficace e trasparente, riconoscere le proprie idee e i propri stati d'animo, comunicare agli altri le nostre richieste nel rispetto reciproco e accettare quelle altrui, rinnovare i propri modelli educativi, cimentandosi in relazioni inesplorate. Sarà necessario fidarsi degli altri, ma anche delle proprie risorse. Questo lavoro ci permetterà di creare relazioni autentiche, simmetriche, in cui nessuno degli interlocutori prevarichi sull'altro, di creare armonia interiore che inevitabilmente si rifletterà nel nostro modo di comunicare. Grazie. 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 Grazie.